Dal Vangelo secondo Luca Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio o primo genito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, Uomo giusto è Pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accorse tra le braccia e benedisse Dio dicendo. Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano su di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse, Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione. E anche a te una spada strafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aserno. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito a sette anni dopo il suo matrimonio, poi era rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fece un ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Cari sorelle e cari fratelli, la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, ha lo scopo di calarci nella quotidianità. Il Natale è capace di accendere la poesia della nascita di un bambino e se lo vogliamo ripingere lo stupore sui nostri volti indaffarati. Ma il Natale è vero se dura nella quotidianità. È un percorso di vita in cui il trono di Dio diventa concreto. E così il Natale si fa carne. Cori angelici e pastori sono spariti. Maria e Giuseppe sono alle prese con un bambino che piange, ha freddo e ha fame. È il figlio di Dio, ma è uguale a tutti gli altri bambini. I suoi genitori hanno gli stessi problemi di ogni papà e di ogni mamma. Anzi, forse qualcuno in più. Giuseppe si sarà sicuramente domandato perché deve fuggire in Egitto con Maria e Gesù. È proprio necessario, visto che quel bambino è il figlio dell'Altissimo. Ed è necessario anche quel viaggio a Gerusalemme per adempiere la legge di Mosè e presentare al Tempio il primo genito maschio e offrirlo al Signore, come ci ha narrato il Vangelo di Luca. Ma non è lui il Signore. Sembra davvero che lo straordinario del Natale si disciolga in una pratica ordinaria e finisca a cercare la sua verità in una trama del tutto normale, segnata da viaggi, fatiche, preoccupazioni e domande. Esattamente quello che accade alle nostre famiglie anche in questi giorni di festa. C'è un Giuseppe che ha perso il lavoro proprio nei giorni che hanno preceduto il Natale. Certo ha festeggiato con la sua famiglia, ma il cuore era gravato dalla preoccupazione. Troverà un'occupazione per dare sicurezza alla sua sposa e ai suoi figli. Un altro Giuseppe ha l'affitto della casa da pagare e le rate sono pesanti. Ce la farà ancora condurre dignitosamente la sua famiglia perché lui non vuole far avvertire troppo la fatica e non vorrebbe far mancare nulla di quello che è necessario. C'è una Maria rimasta sola con i suoi bambini e a Natale la mancanza con il suo Giuseppe in quella casa si è sentita ancora di più, anche se ormai sono passati alcuni mesi dalla sua morte così improvvisa. L'anno scorso c'era con la sua gioia e la sua sicurezza. Chi avrebbe mai pensato che non ci sarebbe stato quest'anno giovane e forte com'era? Ci sono una Maria e un Giuseppe che hanno passato il Natale adagiando nella mangiatoia come se fosse ancora una neonata da accudire la loro figlia ormai trentenne. Ne hanno appena diagnosticato un tumore dovrà essere operata. Patirà sicuramente una menomazione e loro non sanno come essere contenti, come darle coraggio visto che hanno poco anche loro. Ecco sorelle e fratelli che succede a Natale quando si incarna nella quotidianità di una famiglia. La porta è chiusa, il tanti auguri non risuona più e dentro restano le preoccupazioni. La storia di Maria e Giuseppe e dei tanti Maria e Giuseppe che abitano le nostre case, specialmente quelle più segnate dalla fatica, si incrocia oggi, in questa domenica che segue la solennità del Natale con l'esperienza di Abramo e Sara, che sentiremo nelle nostre celebrazioni nella prima lettura tratta dal libro della Genesi. Ormai vecchi vedono morire la speranza che li aveva messi in movimento tanti anni prima. Abramo partì per un luogo che doveva ricevere in eredità. E partì senza sapere dove andare. E ora si ritrova sulla bocca ancora una domanda. Signore Dio, che cosa mi darai? Quanta fede, quanta attesa, quanto coraggio nel formulare la sua domanda a Dio? E Dio che cosa fa? Lo condusse fuori e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. All'opera c'è ancora e sempre il Dio di Natale. Quello che sa portare il cielo in terra, quello che con la bellezza vuol generare lo stupore. Colui che sa riempire l'angosciato cuore dell'uomo e della donna con tutte le stelle del cielo, che pure l'uomo e la donna non sanno nemmeno contare. Ciò che disse ad Abramo Dio lo ridisse a Giuseppe e oggi lo ripete a ciascuno di noi, mentre ci dibattiamo nelle nostre strettoie. Ci porta fuori dai limiti delle nostre conoscenze e ci porta fuori dai limiti dei nostri pensieri. Carissimi, se vogliamo che il Natale entri nella vita delle nostre famiglie, lasciamoci condurre fuori e soprattutto lasciamoci aprire gli occhi da Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.